Buongiorno a tutti, siamo qui in via Dei Pozzi, stiamo facendo il lavoro di ripristino della viabilità, come vedete lo facciamo noi, lo facciamo con il Comune, lo facciamo con le risorse che abbiamo, perché quello che era lo stato di emergenza che ne ha richiesto purtroppo ancora non ha avuto seguito e quindi a fronte di un servizio che deve essere garantito alla cittadinanza ce la mettiamo tutta. Lo facciamo con i nostri piccoli risorsi comunali, lo facciamo con i nostri dipendenti comunali, ringrazio Michele Gasperini per il contributo e il lavoro che stiamo facendo ogni giorno per garantire quello che può garantire a fronte dei disagi avvenuti per l'ultima l'udione, via Dei Pozzi è quasi ripristinata, però come vi dico la stiamo mettendo tutta e non è facile, se lo stato non ci aiuta, non potremo garantire sicuramente la riapertura di altre strade che non necessitano, almeno nei tempi in cui speriamo. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti.